Ben trovati, ben trovati in diretta su Telequattro, è giovedì e quindi come ormai vi abbiamo abituato da qualche settimana c'è il punto relativo a diverse attività della Polizia Locale. Oggi parliamo di Polizia Giudiziaria, il nucleo investigativo della Polizia Locale insieme all'assessore comunale della sicurezza Caterina De Gavardo, ben trovata. Buongiorno a tutti. E a Mariano Princiotta, vice commissario del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, ben trovato. Buongiorno a tutti. Assessore, è un nucleo molto particolare perché si tratta di quegli uomini e donne della Polizia Locale che si occupano di reati penali. Esattamente, sono molto contenta di essere qui con voi per parlare di questo che è un tema molto importante e che ha delle sfaccettature piuttosto, diciamo così, delicate. Con me oggi c'è il vice commissario Princiotta, oggi lo vediamo in divisa, ma solitamente opera in borghese, proprio perché tratta temi delicati, temi di difficile coinvolgimento. Certo. Vice commissario, spiegami innanzitutto come è costituito il corpo. Il nucleo di Polizia Giudiziaria è solo uno dei diversi uffici specialistici in cui è articolata la Polizia Locale di Trieste. In particolare, il nucleo di PG conta una decina di operatori. Questi operatori, a mio avviso personale, costituiscono una condizione di eccedenza a livello regionale per quanto riguarda la competenza specifica in materia giuridica. non me li faccio esclusivamente a titoli accademici acquisiti negli operatori, ma bensì a una più denale esperienza maturata sul campo, spesso in materie in ambito penale, a cui si accompagna ovviamente gli eventi formativi costanti per l'aggiornamento professionale che aiutano ovviamente a definire la preparazione giuridica degli operatori e porli in posizione idonea ad affrontarli a varie problematiche che possono giungere sia dall'autorità giudiziaria, dalla quale dipendiamo in maniera diretta, o anche dalla cittadinanza che ci segnala reati, si propone denunce, querele e quant'altro. Certo, allora partiamo diciamo così da un tipo di reato di cui vi occupate, per esempio mi viene in mente il fenomeno delle truffe, che noi molto spesso traduciamo i servizi per il nostro telegiornale perché preoccupano relativamente soprattutto agli anziani, tra l'altro a Sveglia Trieste qualche volta è arrivata quasi una segnalazione in diretta, questo è uno dei settori di cui vi occupate. Esatto, le truffe assicurative sono solo uno dei tanti reati che noi gestiamo quotidianamente, quotidianamente ribadisco la cittadinanza, si presenta presso i nostri uffici appunto per segnalare episodi in cui è rimasta vittima di truffe assicurative, ciò capita molto molto spesso, ma anche per altre tipologie di reati come ad esempio il furto, furto di qualsiasi natura, furto di inabitazione o per deneggiamenti anche aggravati legati comunque a violenza o minaccia o comunque per la semplice esposizione del bene alla pubblica fede che rende il tutto comunque una possibilità d'ufficio. Per quanto riguarda le truffe assicurative effettivamente colpiscono comunque i nostri concittadini sempre e sempre spesso e ciò è legato forse anche a una sorta di ingenuità a parte della stessa utenza che molte volte viene indotta a stipulare dei contratti relative alla circolazione dei veicoli e affidandosi a persone che ovviamente con una certa abilità riescono con artificie o raggirie indurle alla stipulare dei contratti che dopo si rivelano dei contratti falsi. Certo, ecco, molto importante sapere che la polizia locale si occupa anche di questo assessore perché uno pensa, per questo c'è polizia, ci sono i carabinieri, in realtà c'è anche un nucleo specifico nella polizia locale. Sì, perché la polizia locale è a contatto con la cittadinanza, è a contatto col territorio e in questo caso particolare delle truffe assicurative qualche tempo fa è emersa proprio da una segnalazione del territorio, un caso che poi ha avuto anche una rilevanza internazionale e che la polizia locale è riuscita in qualche modo a portare a risoluzione. Ed è stato un caso che ha dato grande lustro anche alla nostra polizia locale, si trattava di una truffa inizialmente scoperta a Trieste ma poi si è riusciti a capire che aveva dei collegamenti in tutta Italia. Ecco, il nucleo qui rappresentato dal vice commissario Prenciotta è riuscito ad arrivare alla soluzione finale e ad assicurare alla legge chi aveva truffato i cittadini. Certo, ecco, le chiedo poi dell'altro aspetto di cui vi occupate a livello di dati penali ovvero lo spaccio di droga, quindi anche da questo punto di vista c'è una vostra azione in borghese con operazioni mirate? Esatto, la nostra attività comunque riguarda principalmente il microspaccio ma ciò non vuol dire che molte volte ricostruendo la filiera si riesce comunque ad arrivare a dei sequenzi un po' più importanti e molte volte si sottovaluta il semplice sequestro avvenuto in occasioni particolari di piccoli quantitativi, però bisogna appunto pensare che questo piccolo quantitativo fa parte di una filiera che riconduce a delle quantità ben maggiori. A riguardo posso anche citare un episodio specifico che ha portato a un'indagine molto grossa che si è conclusa sì un anno e mezzo fa negativamente, però è rivelatrice comunque di un segno di presenza sul territorio da parte della polizia giudiziaria e della polizia locale stessa. Siamo giunti a un sequestro comunque importante di ben 15 kg di marijuana che comunque all'inizio sono stati collegati a una situazione di microspaccio. Nel caso specifico questa droga veniva comunque custodita in dei fusti in vino appositamente occultati all'interno di una levitazione e da lì appunto anche il nome dell'operazione che è stata denominata operazione verde in vino verde, appunto per questa particolarità di occultamento dello stupefacente. Quindi non bisogna sottovalutare neanche i piccoli episodi che si verificano in ambito locale perché appunto sono legati in altri casi a situazioni ben più gravose. Certo, anche qui un'attenzione particolare della polizia locale anche per tutelare i giovani, no? Sì, come dicevo prima il controllo del territorio e l'estradisposizione del cittadino è fondamentale. Questo nucleo in particolare lavora proprio trasversalmente agli altri nuclei del territorio. Capita spesso che da un controllo banalissimo effettuato da operatori che stanno facendo tutt'altro emergano poi situazioni che portano in campo proprio questi agenti specializzati in polizia giudiziaria che ricordo sono stati anche i primi all'interno del corpo ad essere armati. L'armamento lo sappiamo adesso sta proseguendo però loro già dalla scorsa estate hanno la possibilità girano quotidianamente in città, qualche volta noi non li vediamo perché appunto girano in borghese e girano sempre armati. Bene, quindi anche una responsabilità in più. So che c'era anche un caso specifico prima di assicurazione, abbiamo parlato di spaccio in un'altra operazione ma anche rispetto a un furto che c'era un caso specifico da segnalare. Sicuramente siamo anche molto attivi per quanto riguarda appunto l'assistenza alla cittadinanza che per minire i nostri uffici denuncia anche casi di furti in abitazione. In particolare proprio fine anno scorso siamo giunti anche ad un arresto in flagranza di reato per un tentativo di furto in una villetta posta in zona longera o comunque San Giovanni e ciò dovuto al fatto che comunque la posizione iniziaria si spende, come diceva l'assessore, in controlli sul territorio che vengono svolti in borghese, che non sempre vanno a buon fine però nel caso in cui ci dovesse verificare una particolare evenienza siamo pronti ad intervenire come appunto è stato il caso di un mese fa e nella fattispecie noi stavamo conducendo comunque un'attività di controllo del territorio specifica destinata appunto all'avventuale depressione di reati contro il patrimonio o di tentativi di intrusione appunto in proprietà private e il controllo specifico è andato a buon fine e abbiamo condotto all'arresto appunto un soggetto pur di presidicato comunque già noto al nucleo. Quindi l'avete colto in flagranza di reato che permette poi determinate azioni più veloci e stringenti anche dalla parte dell'autorità giudiziaria. Esatto, esatto. Quindi voi tra l'altro lavorate su impulso proprio dell'autorità giudiziaria. Allora noi il lavoro principale avviene appunto su impulso dell'attività giudiziaria dalla quale comunque subordiniamo dal punto di vista operativo. Però non bisogna sottovalutare che il stesso impulso può venire dalla cittadinanza che costantemente può presentarsi presso i nostri uffici. Non so se l'abbiamo detto ma... Diciamolo, diciamo dove rivolgersi per il nucleo investimento. Sicuramente da lunedì a venerdì l'orario di apertura del nostro ufficio denunce è dalle 8 alle 10 e noi raccogliamo appunto denunce e querele qualora appunto il cittadino ravvisi determinati comportamenti a cui sono collegate delle sanzioni penali e voglia appunto che il soggetto particolare ovvero anche ignoto e quindi sta a noi magari in tanti casi svolgere un'attività investigativa al fine di identificarlo e l'utenza poi vuole che venga instaurato il procedimento penale nei suoi confronti e quindi si presenta da noi, noi recepiamo il... Sempre caserma di... Esatto. Le volte di San Sebastiano? Esatto. Ok. E noi comunque facciamo un'informativa all'autorità giudiziaria e assistiamo comunque l'utenza per garantire appunto l'identificazione, quello rignoto oppure avviare il procedimento penale. Certo. Quindi un ulteriore punto di riferimento per i cittadini. Assessore, sicuramente le segnalazioni a Trieste sono qualcosa di molto più frequente rispetto ad altre città perché si tende a denunciare qualsiasi tipo di rea. Sì, ricordo ci si può presentare fisicamente in caserma, si può scrivere anche una mail polizialocalechiocciolacomune.trieste.it oppure si può chiamare la sala operativa che è a disposizione H24 nel caso di urgenze. Bene, questo insomma ci ha dimostrato anche oggi, abbiamo ancora circa 5 minuti, ancora una volta che, come dire, la polizia locale non è solo, diciamo, traffico e incidenti, come direbbe il cittadino, ma è molto, molto differenziato. Assolutamente, quello che vorrei far passare anche con questi appuntamenti con voi è che la polizia locale è sempre a disposizione della cittadinanza e lo è da tantissimi punti di vista. Abbiamo avuto occasione già di parlare del nucleo antiviolenza, abbiamo avuto occasione di parlare dell'educazione stradale e oggi parliamo di un altro tema che forse la cittadinanza non pensa sia seguito anche dalla polizia locale, ma che invece è presidiato dalla polizia locale, proprio per quel motivo che ho detto inizialmente, della confidenza che la cittadinanza ha con la polizia locale. Forse qualche volta è più semplice rivolgersi all'agente, amico, il quale si riconosce perché vive a Trieste, vive sul territorio e a lui confidare alcuni temi, in alcuni casi anche piuttosto importanti, gravi come i reati di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Certo, Vice Commissario mi viene da chiedere anche come si entra a far parte della vostra specialità, ovviamente il primo discorso è entrare in polizia locale, però poi c'è magari per tanti ragazzi e ragazze che ci seguono l'ambizione di far parte di un reparto molto operativo. Esatto, innanzitutto è essenziale ovviamente fare un concorso per la polizia locale, passarlo, dopo alla fine si comincia sempre con un'esperienza su strada, che è comunque la tipicità di polizia stradale in città e nella polizia locale stessa. Poi ovviamente maturando un'esperienza sul campo, dettata comunque a una risposta che può venire quotidianamente per gli intermedi sul territorio, è abbinato a una formazione giuridica che viene spesso comunque assunta all'interno del Coppa della Polizia Locale, in quanto noi ci affidiamo comunque a una squadra regionale di preparazione, al cui si abbina ovviamente dei corsi specifici, nel caso in cui vi sia un interesse specifico per la polizia giudiziaria, ma ribadisco è importantissimo l'affiancamento da personale esperto, noi naturalmente siamo una decina di operatori, ma quasi la totalità è al nucleo da moltissimi anni, quindi abbiamo una sorta di passaggio di conoscenze da un collega all'altro, che comunque è essenziale dal punto di vista pratico. Certo, ecco, mi preve sottolineare che molto spesso di nuovo operati in borghese, ovviamente per riuscire a individuare i responsabili dei reati, senza palesare la vostra presenza, quindi è un lavoro molto sul campo, anche a livello di pedinamenti, situazioni da monitorare. Sì, l'attività in borghese appunto è essenziale, perché a differenza delle pattuglie che operano sul territorio, che hanno bisogno comunque di essere viste, per essere appunto un riferimento immediato per l'utenza, noi abbiamo bisogno appunto di mantenere una sorta di anonimato, che ci permetta di fare pedinamenti, appostamenti, e comunque un'attività investigativa, che richieda appunto il fatto di essere anonimi. Il fatto di essere stati i primi ad avere l'arma di servizio è stato qualcosa forse di più naturale anche per altri reparti, possiamo dire così? Esatto, è stato più naturale comunque armare in primis la polizia giudiziaria, appunto per la sensibilità all'attività svolta, insieme ai due con gli interventi speciali, che dall'altra parte sono quelli che intervengono per primi, in caso di interventi operativi in centro, comunque tutte le volte che è richiesto un intervento nella portata in divisa. Certo, ecco ricordiamo Assessore, armamento che serve anche per la questione dei turni notturni, non la questione di aver la pistola, una questione di poter garantire più copertura anche durante la notte. Una copertura anche durante la notte, esatto. Adesso la polizia locale è operativa fino alle due di notte, nel momento in cui sarà completamente armata, amplieremo il servizio anche la notte. Volevo mettere in evidenza una cosa di cui ha parlato prima il Vice Commissario Princiotta, l'inserimento a piccole dosi dei nuovi ingressi è fondamentale per riuscire a passare la conoscenza che c'è del territorio anche. Ci sono state delle importanti assunzioni all'interno del corpo della polizia locale nello scorso anno, ma queste assunzioni si sono in qualche modo distribuite su tutto il corpo della polizia locale, in modo tale da far passare ai nuovi ingressi tutte le conoscenze, le esperienze, le conoscenze del territorio, che in questo campo qua è fondamentale anche ai ragazzi nuovi che non sempre tra l'altro sono di Trieste e quindi grazie all'affiancamento con i più esperti hanno anche acquisito una sensibilità di quelle che sono anche le zone più critiche della nostra città perché ci sono, siamo coscienti che ci siano ed è giusto che i nuovi ingressi vengono affiancati da chi ha più esperienza e indichi loro quali sono gli atteggiamenti giusti da utilizzare in alcune zone. Grazie allora all'assessore alla sicurezza De Gavardo, grazie al vice commissario Princiotta per essere stati con noi in questo appuntamento del giovedì in cui di settimana in settimana scopriamo di più rispetto ai vari reparti della polizia locale. Restate con noi perché tra poco 13.20 CTG. Ben trovati, ben trovati alla nuova edizione del telegiornale Meridiano di Telequattro dove era posizionato veramente il cadavere di Liliana Resinovic dopo la morte. Siamo tornati nel boschetto di San Giovanni assieme all'amico intimo di Liliana Claudio Sterpin. Questo si tratta solo di un estratto del sopralluogo con Sterpin che andrà in onda in una ricca puntata dedicata proprio al giallo di Liliana domani sera su Telequattro, mentre questa sera avremo in apertura il tema Varzila con i commenti di quattro ospiti del Consiglio Comunale e poi un'intervista con il Vescovo di Trieste che farà il punto della situazione anche sulle urgenze della città. Ma intanto vediamo questo estratto del sopralluogo nel boschetto di San Giovanni con Claudio Sterpin Il scoppo che mostra Liliana proprio qua e adesso lo facciamo insieme volentieri. Il 5 io la stavo trovata. Sì. Nei primi alberi che sei là, mi per due settimane o un paio di settimane ho posato la mia rosa perché io la trovavo il martedì la rosa quando arrivava a casa mia perché prima che tagliavo una di quelle che avevo in orto invece che là ecco così, un pensiero e subito dopo quando sei più rose in orto perché finissi la stagione mi la facevo trovare comunque allora là sono andate le prime due rose, penso due subito dopo Covalero mi la portava qua per la primissima volta e era tutto quanto con Torrà, De Nastro e mi ha detto che era stata trovata là per cui questo è diventato il loro simbolo dove da due anni mi portavo la rosa qua. E invece? E invece per quanto riguarda che ha tirato fuori a Giampaolo Sarti sembra, sembra, o almeno così ha detto lui e anche un, prima, allora lui lo ha detto perché lì era qua il 14 per questo cosa è venuto? Il 14 di dicembre scorso leggendo tutti gli atti ecco per lui io la trovo da qua. Dove? Allora seguiamo Piaudio Sterpin dove sembra che dagli atti il ritrovamento invece sia scrivibile a un altro punto di questo boschetto di San Giovanni. Cioè alla fine della rete dove c'è il gomitolo di rete raccolta eccola là e qua al limite del costone quindi più nascosta diciamo in qualche maniera perché secondo me allora torniamo indietro di due anni errotti in quel periodo questo posto tutto, tutto, poteva essere somigliante a questo secondo me Sì perché con le gambe amore purtroppo Cioè detto in Triestin gli era una graia Gli era una graia eccolo e chi l'ha portata qua non può essere entrato se non con quei calzoni da lavoro di telone eccetera anti spine anti eccetera secondo me adesso da pochi giorni che io sono entrato in possesso perché le immagini volano Entrato in possesso diciamo così delle foto relative Due foto del ritrovamento eccolo Allora adesso siamo assieme sotto d'Ela e se vedi chiaramente c'è un sacco di edere no? E là non c'è? Questo è un mare di edara giusto? Questa in terra Ad ogni modo lei è vicino alla rete quindi comunque è da questa parte Per cui là non può essere perché non c'è Allora andiamo in qua perché bisogna andare in cerca di quella rete eccola Io propendo per circa qua a occhio Allora ne parleremo più diffusamente domani sera a Ring Duraranno invece una ventina di giorni i lavori di asfaltatura del marciapiede in via Cantù lato numeri pari all'incrocio con via Monte San Gabriele e via Romagna potrebbe rendersi necessario un restringimento della carreggiata Hanno preso il via i lavori di asfaltatura del marciapiede di via Cantù lato numeri pari nel tratto piuttosto ampio compreso fra l'incrocio con via Monte San Gabriele e via di Romagna un intervento reso necessario dal deterioramento dell'attuale copertura e che fa parte di un piano più ampio di lavori pubblici intrapresi dal comune che riguardano le zone a nord della città L'intervento secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale proseguirà per una ventina di giorni e potrebbe rendere necessario un restringimento di carreggiata un'eventualità che preoccupa non poco gli abitanti della zona che ricordano ancora quando fino a qualche anno fa essa era preda dei parcheggiatori di camper la via infatti negli orari di ingresso è uscita dalle tre scuole superiori che vi hanno sede è notevolmente trafficata e la presenza contemporanea di più linee di Trieste Trasporti che supportano la 14 per portare gli studenti a scuola e poi a casa rende la circolazione piuttosto complicata durante i lavori fra l'altro le isole ecologiche verranno trasferite resteranno garantite le fermate degli autobus il marciapiede di fronte che scorre sotto il muraglione delle case degli americani si presenta in buone condizioni e pertanto non sarà interessato da alcun intervento nessun parcheggio temporaneo nell'area della piscina terapeutica dell'ex piscina terapeutica acquamarina in attesa che si proceda con il nuovo progetto la ditta Fantini che si è occupata della demolizione ha asfaltato temporaneamente l'area per questioni di sicurezza abbiamo realizzato un servizio perché insomma varie segnalazioni si domandavano su quello che era lo stato dell'arte Oniswaki Malipans il motto dell'ordine della giarrettiera che potremmo tradurre sciagurato sia chi pensa male un po' potrebbe adattarsi a quanti resisi conto dell'asfaltatura a cui è stato sottoposto il sedime sul quale sorgeva la piscina terapeutica avranno pensato che l'intervento sia prodromico alla realizzazione di un seppur temporaneo parcheggio parcheggio che fra l'altro nella zona asfaltata manco potrebbe sorgere giacché sotto resta l'invaso delle vasche della piscina tutt'altro il comune su precisa indicazione della soprintendenza ha proceduto all'asfaltatura per tutelare l'area e metterla in sicurezza una misura a cui ha proceduto la ditta Fantini fra l'altro prevista dal progetto di demolizione del manufatto collassato su se stesso quattro anni e mezzo fa l'area fra l'altro resta ricintata in attesa che si proceda con la realizzazione della nuova struttura che andrà a sorgere dove si trovava acqua marina a breve il sindaco di piazza e l'assessore Lodi incontreranno il comitato che raccoglie i frequentatori dell'ex piscina terapeutica per procedere ove possibile di concerto bene ci colleghiamo con l'amico De Grassi della polizia locale per le ultime su traffico viabilità eventuali incidenti in mattinata buongiorno ben trovato sì buongiorno stabile le tue tre spettatori diciamo è stata una mattinata abbastanza movimentata abbiamo rilevato circa quattro incidenti di cui tre conferiti fortunatamente non gravi in più abbiamo avuto una perdita di carico abbiamo fatto specie di aria sul raccordo di Catinara trattato docente alla galleria Carso quello sopra provenienti da Catinara comunque è stato tutto pulito al momento è transitabile tranquillamente ricordo la chiusura appunto però anche della galleria Carso da questa mattina fino al 18 di sera in direzione Venezia quindi proprio in questa area chiusa e niente ci sono dei divieti in varie zone per lavori mi avevamo detto di allertare più di tutto per la zona di via Svevo intersezione via degli antiforni perché ci dovranno essere delle asfattature per il resto interventi brutti il traffico è nella norma di restitura di linea grazie grazie al commissario Fulvio De Grassi della polizia locale di Trieste per le ultime novità ci spostiamo a Muggia dove la polizia locale ha individuato e denunciato un uomo che da Natale rubava le offerte nel duomo di piazza Marconi per 5 volte si era introdotto nella chiesa con diversi complici utilizzando un sistema per estrarre monete e banconote dalle cassette delle offerte primo episodio il 25 dicembre e poi anche il 30 dicembre il 3 e il 9 gennaio e il 27 il giorno in cui l'uomo è stato finalmente fermato i filmati delle telecamere hanno consentito di osservare i due uomini che il 25 dicembre mescolandosi con i fedeli rubavano il denaro delle offerte utilizzando un'asta con nastro biadesivo che introdotta nei contenitori permetteva di estrarre sia monete che banconote ovviamente il 25 dicembre perché si pensava a un bottino più cospicuo quindi l'arresto che è stato effettuato scusate il fermo che è stato effettuato in flagranza di reato il 27 di gennaio l'uomo è di origine bulgara con diversi precedenti tra i quali furti e rapine anche la donna la complice è stata individuata grazie alla polizia locale di Trieste si tratta di una ragazza sudamericana con diversi precedenti tra i quali furto aggravato e ricettazione nell'ultimo tentativo quello del 27 gennaio la polizia ha recuperato circa 38 euro che sono stati poi riconsegnati al parroco del duomo di Muggia è stato presentato invece poco fa l'esito del non sondaggio ma insomma di quella che è stata una vera e propria interlocuzione con i cittadini di Trieste sul futuro di Barcola attraverso una piattaforma dedicata sul sito del comune di Trieste nel teggio giornale della sera vedremo il servizio completo ora sentiamo appena raccolta l'intervista di Laura Bucarella all'assessore Michele Babuder assessore alle politiche del territorio raccolta proprio pochi istanti fa quali sono i risultati di questa piattaforma per il futuro di quella che sarà la nuova Barcola oltre 2800 persone hanno partecipato alla piattaforma partecipativa messa in animo dall'amministrazione comunale sia online sia ovviamente attraverso i questionari che sono stati rilasciati cartacei ci dà un'indicazione precisa di quelle che sono i desiderata dei triestini sia rispetto agli utilizzi dei luoghi che adesso andremo tra l'altro anche a ripristinare dopo la mareggiata ci dà un indirizzo su quelle che sono le alternative eventualmente praticabili e anche apprezzate dai triestini che preferirebbero muoversi attraverso mezzi come la bicicletta che apprezzano il verde che vogliono migliorare e ci chiedono di migliorare in quelle che sono gli arredi urbani ci dà una definizione ovviamente di quelle che sono anche nel contesto dell'ampliamento del mare l'apprezzamento per le terrazze nei pressi del bivio desiderate da oltre l'80% delle persone intervistate e ovviamente ci dà dei suggerimenti per quello che è la mobilità i trasporti quindi l'implementazione dei trasporti via mare il miglioramento del trasporto bus su strada e ovviamente rimane il nodo critico dei parcheggi la maggior parte dei triestini che hanno risposto al questionario nonostante la difficoltà del parcheggio si denota che continuano a utilizzare quello come mezzo prevalentemente per praticità ma è altrettanto vero che dobbiamo essere in grado di offrire loro delle alternative per poter decongestionare il traffico della nostra riviera allora ci fermiamo un istante per la pubblicità torniamo tra poco con altre notizie e servizi restate con noi ben trovati ben trovati ancora con il telegiornale meridiano di Telequattro allora vi rinnovo l'appuntamento per questa sera 21.10 con Ring in apertura parleremo della situazione di Varsila dopo l'annuncio di MSC di voler prendere lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra per trasformarlo in una produzione di carri merci ferroviari ne parleremo stasera in studio con Fabio Canidisec della CISL intervistato da Laura Bucarella poi il talk con Bernardo Gulotta avrà ospiti in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle Massimo Codarin di Fratelli d'Italia Daniele Vatta del PD e Roberto Cason consigliere comunale del gruppo misto poi ci sarà un'intervista del nostro Umberto Bosazzi con il vescovo di Trieste Don Enrico Trevisi che ha tracciato anche quelle che secondo lui sono le priorità dal punto di vista dei problemi da attenzionare su Trieste e sui quali agire in maniera il più tempestiva possibile lo sentiamo in un brano dell'intervista che è stata realizzata dal nostro Umberto Bosazzi poi questa sera l'intervista completa io mi sto misurando anche l'ho già accennato poco fa con la dimensione della povertà se alla mensa caritas diamo più di mille ma arriviamo anche a milleottocento pasti al giorno vuol dire che Trieste deve misurarsi anche con delle fatiche di vivere sia qualcuno può dire certo tanti vengono dalla rotta balcanica ma anche di tanti che sono cittadini di Trieste che fanno fatica c'è il tema della solitudine di tanti anziani e che le proiezioni ci dicono di una città che nel futuro dovrà misurarsi ulteriormente con questa dimensione evidentemente c'è una città che sta fiorendo anche dal punto di vista della sua università ma che però dovrà misurarsi con un inverno demografico e allora io penso che per il futuro di Trieste ci sia da investire per servizi riguardanti le giovani famiglie che se non hanno appartamenti un po' anche a prezzi calmerati evidentemente cercheranno da altre parti perché è evidente che questo è un problema assai rilevante allora io penso che per il futuro di Trieste occorre sì investire sul turismo ma anche investire su altre dimensioni che sono queste che accennavo quella della povertà quelle delle giovani famiglie che dicono come sì abbiamo un campo di lavoro ampio allora questo l'estratto dell'intervista del Vescovo di Trieste che poi questa sera parlerà diffusamente della situazione triestina e dei temi all'ordine del giorno ritorniamo a parlare invece della situazione del Silos che sta diventando ormai cronica impensabile non trovare posto a 5 richiedenti asilo al giorno ha detto ieri il presidente di ICS Schiavone la presentazione di un corso gratuito attivato con la Caritas e il Centro Veritas per comprendere le migrazioni internazionali Il Consorzio Italiano di Solidarietà la Caritas di Ocesana e il Centro Culturale Veritas di Trieste promuovono un corso gratuito aperto a tutti per capire le migrazioni internazionali e nel presentare l'iniziativa che si terrà dal 12 marzo al 14 maggio al centro Veritas di Via Montecenio il presidente ICS Schiavone torna sulle 200 persone al Silos che attendono di entrare nel sistema d'accoglienza una situazione dice che sta ormai diventando cronica Si sta cronicizzando perché da agosto 2022 questa situazione è rimasta stabile cioè i richiedenti asilo che fanno la domanda a Trieste come la legge tra l'altro prevede quindi loro sono nella piena correttezza del rispetto della legge invece di essere inseriti nel sistema d'accoglienza e redistribuiti in tutto il territorio nazionale con immediatezza come la norma prevede attendono settimane o mesi per entrare nel sistema di cui hanno diritto pur essendo un numero molto basso perché appunto come sempre ho ricordato siamo a circa 5 domande di asilo al giorno ecco perché parliamo di emergenza artificialmente costruita Gli fa eco il direttore della Caritas diocesana padre Giovanni Lamanna che alla luce dei reali numeri dei migranti respinge l'idea che si tratti di una vera e propria emergenza in regione Sono dei numeri guardando al Friuli Venezia Giulia guardando a Trieste che si possono governare quindi il termine emergenza per me è improprio quindi parliamo di piani sappiamo ora da anni quale può essere l'entità del flusso e allora è possibile che in tanto tempo non ci sia stata la possibilità di individuare luoghi o ampliare un sistema per accogliere con dignità L'obiettivo del corso è stato spiegato in conferenza stampa e fornire alle persone gli strumenti per conoscere molti temi che riguardano ciò che sta succedendo nel nostro contesto e in altri paesi sul fronte dei flussi migratori Sicuramente è una novità per questa città dove l'informazione su questi temi è frammentata e diciamo disarticolata e poco chiare soprattutto non viene data una chiave di lettura insomma per comprendere la realtà Nuovo spettacolo in cartellone al teatro sloveno da venerdiva in scena lo straniero tratto dal romanzo del premio Nobel Albert Camus L'incontro di Franco però con lo straniero di Albert Camus data agli inizi degli anni 2000 Mi sono reso conto altre volte l'hanno chiesto me l'hanno proposto di fare che quell'adattamento di Asenkot mi portava questo testo in modo perfetto diciamo o meglio metteva fuori tutte le cose principali del testo tutti gli elementi fondamentali dal 16 al 25 febbraio una versione in sloveno del testo ricavato dal romanzo dell'autore francese premio Nobel sarà in scena al teatro sloveno e la regia è appunto quella di Franco però testo semplice seppure complesso lo straniero racconta la vicenda di un uomo disincantato e che riconosce il vuoto della propria esistenza quando verrà imprigionato per un omicidio che sarebbe una legittima difesa comincerà da lì una ricostruzione della sua vita e la presa di coscienza di quanto lui sia distante dalla società per arrivare alla fine a dire bene io voglio restare così e se dovessi rivivere farei la stessa vita ambientata ambientata ad Algeri scritta fra il 1938 e il 1940 non priva di riferimenti religiosi che pure restano sotto traccia la vicenda è un apologo contro la pena di morte cui protagonista di fatto si concede perché paradossalmente in questo modo atroce e stupido la sua vita avrà un senso mi sembra che sia utile è importante mettere in scena cioè far conoscere ti fa venire voglia anche di rileggere questo romanzo bellissimo in scena Yuri Dvenschnek Boris Ostan Tina Gunzek e Primoz Forte come al solito tutte le recite saranno presentate con i sopratitoli in italiano bene ma rimaniamo un servizio che era in scaletta in precedenza quello del sindaco di piazza che parla della bretella del porto vivo rispetto alla quale ormai ci siamo con la fine lavori facciamo vedere il percorso dal magazzino 26 a Largo Santos stiamo segnando la segnaletica ci siamo avrebbe dovuto percorrerla per prima Giorgia Meloni se sabato scorso la premier avesse deciso di visitare anche il magazzino 26 intanto alla bretella di ingresso in Portovecchio si stanno comunque ultimando le rifiniture e il sindaco di piazza ha postato in un video sulla sua pagina facebook le immagini ormai quasi definitive del tratto di strada che il comune conta di aprire a breve il sistema di illuminazione come noto è stato rinnovato sono stati realizzati ampi marciapiedi piantati nuovi alberi ed è stata prontata una pista ciclabile ma il sindaco lo ribadisce nella nota che accompagna il post soprattutto è stata realizzata tutta la dorsale tecnologica e dei servizi sotterranea la strada che raggiungerà ogni magazzino dell'area inizialmente la bretella si percorrerà in entrambi i sensi di marcia il progetto come noto prevede altri interventi pertanto il rinnovo di Porto Vivo non si ferma a marzo partiranno i lavori per la realizzazione del viale monumentale quelli per il parco verde lineare inizieranno a giugno allora vi ricordo ancora una volta che domenica ci sarà la sfilata di carnevale di Muggia che è stata sospesa per maltempo domenica scorsa Tele4 comunque sarà in diretta questa domenica 13.20 settantesimo corso mascherato lo spettacolo delle otto compagnie trotto la bulie pupe la bora ongia bandrioi lampo bellezze naturali e brivido i carri le maschere le gag l'allegria e la musica delle bande il grande spettacolo del carnevale di Muggia su Tele4 con collegamenti già nel telegiornale di domenica che eccezionalmente inizierà alle ore 13 allora ricordiamo naturalmente che la sfilata come detto era stata rinviata andrà comunque in diretta questa domenica su Tele4 rivediamo invece il servizio anche del funerale del carnevale che ovviamente si è svolto ieri ma per chi non lo avesse visto lo rivediamo assieme e comunque domenica saremo in diretta oggi a Muggia il tradizionale funerale del carnevale che chiude i festeggiamenti della manifestazione in realtà si continuerà ancora domenica con la diretta di Tele4 ben inteso quando le 13 è prevista la grande sfilata delle compagnie del carnevale dopo il rinvio per maltempo della settimana scorsa ma il rito di questo pomeriggio non poteva davvero mancare prima la veglia funebre insieme alla vedova inconsolabile in piazza Marconi a cura della compagnia Mandrioi poi il lungo corteo fino al saluto del defunto carnevale via mare il tradizionale evento è stato molto partecipato per la gioia di grandi e piccini anche quest'anno naturalmente a prestarsi come figurante dentro la bara il presidente dell'associazione delle compagnie del carnevale Mario Vascotto bene allora ancora un servizio rifatto il manto del campo di calcio a sette del club Altura un'opera da 180 mila euro a beneficio dei 150 ragazzi che utilizzano la struttura abbiamo deciso di intervenire qui perché c'è la necessità di garantire la struttura di continuare a lavorare per i bambini e per i bambini è una società seria che lavora tanto per i giovani qui in Rione di Altura un intervento di 180 mila euro che ha promesso la riqualificazione del manto erboso oltre tutte le attività necessarie propedeutiche ovviamente alla rimozione del manto erboso in precedenza o mai usurato nuovo campo in erba sintetica per i 150 bambini e ragazzi che frequentano la scuola calcio del club Altura i lavori sono stati eseguiti dalla Green System SRL e sono iniziate l'11 settembre 2023 l'opera è stata ultimata in poco più di due mesi il campo è già utilizzato da metà novembre abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa anche in occasione di un evento molto carino e simpatico una festa dello sport una festa qui ad Altura che sarà il triangolare venerdì sera alle sette e mezza qui nel campo di calcio a sette la venerdì sera con inizio alle ore 19.30 avremo un triangolare per inaugurare questo manto sintetico fatto grazie al comune grazie all'assessore Lodi grazie a Stefano Barnobic che ci ha dato una mano le tre squadre che scenderanno in campo sono una rappresentativa del comune di Trieste una squadra composta da diciamo così da club Altura da dirigenti allenatori e per ultimo il Panatlo Muge a Trieste che ci supporta in certe nostre attività così li abbiamo invitati a fare questa giornata di festa insomma questa giornata di sport e poi c'è il terzo tempo importantissimo anche quello con il cibo che arriva sui piatti e poi il terzo tempo che è la cosa fondamentale diciamo che la partita fa di contorno al terzo tempo che sarebbe la cosa migliore il bello del tutto e il dopo anche se in campo ti arrabbi ma quando esci dalla porta deve essere tutto quanto un'amicizia bene tutto per questa edizione del Tg stasera 19.30 l'edizione serale 21.10 c'è Ring restate con noi un'amicizia 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 Grazie a tutti.